Si sono tenute questa mattina le cerimonie ufficiali in occasione della Giornata della Memoria, giorno in cui viene ricordato l'immane sacrificio del popolo ebraico durante la Shoah. L'amministrazione comunale, per voce del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, il rappresentante della comunità ebraica del Friuli Venezia Giulia, professore Elio Khabib, il presidente provinciale dell'associazione ex deportati Hane Deliseo Moro e tutte le più alte cariche militari e civili, hanno reso onore a quanti pordenonesi italiani hanno pagato con la loro vita le persecuzioni nazifasciste durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel Giornata della Memoria abbiamo ricordato che il nemico principale da combattere non è quello legato a sparuti e marginalissimi gruppi di nostalgici, ma è quello del rischio dell'oblio, cioè di dimenticare ciò che è accaduto e di non attualizzarlo. L'Occidente ha sicuramente maturato gli anticorpi contro ogni forma di razzismo, di negazionismo, di antisemitismo. Tuttavia, oggi questi ideali pazzeschi, mostruosi, assumono il volto di interi stati, di gruppi terroristici, di organizzazioni eversive che ancora vivono all'interno dell'Occidente e vivono soprattutto nel Medio Oriente. Ecco, se vogliamo che la parola non dimenticare, soprattutto fare in modo che questi atti non si ripetano più, dobbiamo maturare una cortina ideale, una cortina culturale affinché questi germi vengano definitivamente debellati. Ho messo in evidenza quali sono le caratteristiche fondamentali del significato della memoria. Il fatto di imparare dal passato, studiando la storia, studiando profondamente la storia, vedendo in maniera critica, in maniera scientifica. Questo da un lato, dall'altro riconoscere oggi le premesse che possono portare a nuove tragedie. Molte testimonianze, memorie, specialmente dopo il processo Eichmann si è aperto un nuovo capitolo della storiografia della Shoah, perché moltissimi che non avevano raccontato a nessuno le loro esperienze si sono aperti, hanno scritto, hanno tramandato, hanno parlato. Per questo basta leggere, leggere, ascoltare e capire veramente quello che è successo. Ma ancora più importante è studiare le premesse, studiare la storia dall'antigiudaismo all'antisemitismo e riconoscere i segnali oggi di questo antisemitismo che cambia sempre la maschera ma non cambia il volto. Tutte le iniziative in occasione della memoria sono raccolte online alla pagina comune.pordenone.it slash memoria